Powerware è un progetto di sensibilizzazione dei consumatori basato su elementi di behavioral science e in particolare ci rivolgiamo ai consumatori di energia elettrica i cosiddetti usi finali per mostrare loro come possono consumare in maniera più efficiente e riducendo gli sprechi. Per fare ciò la piattaforma web che si chiama per l'appunto Powerware profila l'utilizzatore di energia elettrica sulla base di alcune caratteristiche che lo contraddistinguono per esempio la dimensione dell'abitazione piuttosto che la tipologia di elettrodomestici che utilizza in casa, dopodiché mette tra di loro in comparazione consumatori che hanno caratteristiche analoghe ed è proprio questa comparazione che dovrebbe stimolare il consumatore ad assumere dei comportamenti più virtuosi cambiando alcune abitudini di consumo e naturalmente anche un altro servizio offerto dalla piattaforma è proprio quello di suggerire al consumatore quali comportamenti possono cambiare così da produrre qualche volta un risparmio economico e qualche volta un risparmio energetico oppure entrambi. L'adozione di comportamenti diversi da parte dell'utilizzatore finale di energia elettrica dovrebbe produrre quel cambiamento sociale auspicato dal progetto Powerware che nella pratica si traduce in meno sprechi energetici ed un utilizzo più responsabile delle nostre risorse. Grazie a tutti.